Con 412 sì e 202 no, la Camera dei Comuni del Regno Unito approva la mozione che consentirà al governo di Theresa May di chiedere all'Unione Europea un rinvio breve della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno. La speranza è quella di ottenere la ratifica del Parlamento sull'accordo che la May ha trovato lo scorso 2 novembre per l'uscita dall'Unione, ma che l'Aula ha già bocciato due volte. Il rinvio non sarà però automatico, come spiega un portavoce di Bruxelles. Prima servirà il voto unanime dei 20 anni.